e poi si è anche ribadito nelle conclusioni che chiaramente potete andare a leggere lascio tutto in descrizione che alcuni studi hanno anche riportato per l'appunto questa presunta correlazione tra l'esposizione a radiofrequenza e l'insorgenza di tumori ma sono in particolare due uno è uno studio italiano prodotto da un centro di ricerca bolognese che si chiama Ramazzini uno è uno studio invece americano, statunitense del National Toxicological Program ok? lascio comunque tutto in descrizione questi sono studi che sono stati definiti dall'ICNIRP che ha proprio questa funzione di fare revisioni sulla qualità della ricerca scientifica come inconsistenti in conflitto tra loro e con una statistica non sufficiente come tra l'altro è possibile notare, leggere all'interno delle stesse ricerche cioè se io vado a leggere e lascio tutto in descrizione è andato a fare nella ricerca del Ramazzini nelle conclusioni si può leggere che si è notata una presunta correlazione tra diciamo ad esempio l'esposizione a un topo alla popolazione dei topi femmina dell'insorgenza di glioma cerebrale virgola nonostante la statistica non sia significativa cioè lo dicono loro stesso capito nella ricerca ecco questi due se ci fai caso sono proprio quei due studi che vengono tanto citati dai detrattori del 5G che comunque appunto presentano queste caratteristiche ma che è una cosa completamente normale cioè non è che questi è una cosa completamente normale nella ricerca scientifica cioè la ricerca scientifica è fatta proprio in modo che tipicamente accade che il 5 diciamo 5% di tutte le ricerche scientifiche in un certo settore siano in qualche modo in conflitto con quello che dice la maggior parte del sapere scientifico è una cosa che funziona proprio così la ricerca scientifica quindi non ha assolutamente alcun senso agganciarsi a una specifica ricerca che dice che il 5G può far male che dovresti vedere tutte le ricerche ma perché non si è capito che cosa è la ricerca perché selezionare proprio quella ricerca esatto cioè io vado a prendere una ricerca su letteralmente decine di migliaia che dicono il contrario cioè ma di cosa stiamo parlando ok è una cosa che può capitare perché cioè perché uno forse ha in testa che la scienza sia qualcosa di esatto ma non è assolutamente così la scienza cerca di fare meno errori possibili ma è chiaro che su grandissimi numeri di ricerca vengano fuori dal punto di vista statistico alcuni valori che sembrano essere al di fuori della direzione comune che ha invece la scienza nulla semplicemente questo che si fa non è assolutamente la scienza che si fa che si fa che si fa